ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it quest'oggi parliamo dello strumento remix introdotto nella versione di premiere pro 22.2 del febbraio del 2022 in altre parole se non avete questa versione del software aggiornata appunto all'8 febbraio 2022 la versione 22.2 quello che sto per mostrarvi non lo troverete o almeno non lo troverete come ve lo sto per spiegare io qual è il problema che dobbiamo risolvere io qui ho una clip video montata è chiaramente un montaggio veloce ritmato quello di cui ho bisogno è di una bella musica incalzante bene mi sono procurato da youtube una musichina che può star benissimo al nostro montaggio qual è il problema che molti montatori quotidianamente devono affrontare beh la timeline qui dura circa 33 secondi e 11 frame il brano musicale dura due minuti e 40 secondi noi dovremmo adattare la durata del brano musicale alla nostra clip video perché perché di per sé il montaggio è perfetto o comunque è accettabile ed è adatto alla musica che ho appena scelto ok il problema chiaramente che quando il montaggio video finisce la musica continua ok e noi vogliamo invece che la musica termini con il montaggio video qual è la strada che abbiamo percorso noi montatori video fino ad oggi tre strade a dire la verità la prima è di accorciare manualmente la durata dell'audio e applicare magari in coda una piccola dissolvenza se non avevamo molto a cuore come finiva il video in altre parole ecco via se non ci interessa far chiudere tutto così come un macellaio per capirci la seconda alternativa più scomoda qual era era tagliare il video a mano cioè trovare un punto di battuta 2 3 4 5 6 7 8 qui c'è un'altra battuta vediamo sì questo punto qui applichiamo un taglio e cerchiamo una battuta verso la fine della nostra clip audio per poterci riagganciare quindi per esempio qui questo potrebbe essere un punto di battuta ecco fare un taglio diciamo così anche un po più lungo avremmo potuto prendere un pezzettino di più vediamo ok ecco questo è l'incubo no è il tempo che noi andiamo a perdere quando facciamo questo lavoro di taglio manuale ok più o meno ok questo è il lavoro che normalmente si fa per adattare la durata di una clip video a quella di una clip audio o meglio il contrario la durata di una clip audio a quella di una clip video e i risultati sono più o meno buoni il problema è che bisogna perderci del tempo e il tempo come voi sapete bene è denaro e comunque vedete che ancora ci sarebbe del lavoro da fare la terza soluzione è quella che abbiamo mostrato in un altro tutorial di questo canale youtube ovvero passare per adobe audition e utilizzare lo strumento remix di audition non ve lo mostro qui c'è una c'è un tutorial ad hoc tra i mini tutorial mi sembra di questo canale youtube ma ecco qui entra in gioco la nuova funzione remix introdotta nella versione 2022 22.2 di premiere pro la funzione è appunto si chiama anch'essa remix e permette di fare quello che ho appena fatto io a mano però in automatico ovvero c'è uno strumento che taglierà questa clip per noi adattandola alla durata che noi vogliamo come si accede allo strumento remix bene dovete andare qui sulla barra degli strumenti scegliere il terzo strumento a partire dall'alto questo che normalmente è lo strumento utilizzato per il montaggio con scarto ma tra i vari strumenti di montaggio con scarto senza scarto e strumento dilata frequenza ecco è stato aggiunto un nuovo strumento appunto lo strumento remix che è quello che noi andiamo ad utilizzare adesso come si utilizza lo strumento remix vedete che il nostro puntatore del mouse è cambiato ci posizioniamo alla fine della clip audio clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e come se trimassimo ecco diminuiamo la durata fino al punto che noi al punto che noi vogliamo al punto in cui vogliamo far concludere la musica rilascio il mouse e vedete che premiere sta elaborando la traccia audio perché cosa sta accadendo premiere sta aggiungendo dei tagli se guardate la clip qui nel monitor di preview vedete che ci sono questi tagli verticali ad indicare che in questi punti della traccia audio premiere ha fatto un po quello che io ho fatto prima a mano quindi ha tagliato e ha cercato di adattare la musica alla durata che io ho indicato senza che però l'orecchio umano possa accoggersi di nulla ascoltate ok un risultato anche migliore rispetto a quello che avevo fatto in fretta io a mano beh in realtà premiere ha tagliato adattato applicato micro dissolvenze insomma ha fatto in modo di adattare un brano che durava due minuti e quaranta alla durata di circa due minuti di circa 30 secondi se volete applicare meno tagli se volete personalizzare un pochettino il modo in cui il premiere ha applicato lo strumento remix potete aprire il pannello audio essenziale e selezionando la clip audio alla voce modifica andare a modificare appunto la tab durata che vedete è già impostata sul remix e customizzare un po questi settaggi per magari diminuire il numero di tagli che volete o modificare la durata un pochettino in maniera più precisa in realtà non è complicato utilizzare questa funzione perdeteci un pochettino di tempo è molto simile alla funzione remix che è presente già da molto tempo in adobe audition e di cui abbiamo già parlato e tutto questo sfrutta l'intelligenza artificiale adobe sensei che è un applicativo di machine learning sviluppato da adobe per semplificare un po la vita di noi montatori per adesso è tutto vi ringrazio www.fabianvrosi.it sul sito internet ovviamente trovate anche l'articolo con tutte le novità introdotte in questa nuova versione di premiere pro quindi non c'è solo la funzione remix c'è anche la trascrizione offline dei testi molto più veloce e alcuni miglioramenti alle performance sul sito trovate anche ovviamente l'elenco dei bug risolti nella versione 22.2 di adobe premiere pro se vi è piaciuto questo tutorial ovviamente registratevi a questo canale youtube commentate questo video mettete un like e ci vediamo al prossimo video tutorial ciao grazie